ma vorrei innanzitutto ringraziare Elena Leventhal e il circolo dei lettori di Torino per avermi invitata a raccontare il mio 2 giugno del 1946. È un giorno che non potrò mai dimenticare. Stavo andando a votare. Si votava su due schede, sul referendum Repubblica Monarchia e per la elezione dell'Assemblea Costituente. Mi avviavo insieme a Franco, mio marito, verso il noto seggio, la scuola veteriniana da Feltre vicino al Colosseo. C'era una lunga fila. Tra l'altro votarono il 90% delle donne. Ero molto emozionata. Era il mio primo voto. Votavano 13 milioni di donne. Ma oltretutto ero emozionata perché quel voto non era il frutto di un caso. Era il risultato di una lunga battaglia nella quale io ero stata direttamente impegnata. Durante il periodo fascista, come si sa, non aveva votato più nessuno. E quindi adesso si dovevano ricostituire gli elenchi degli eventi diritti al voto che secondo le norme in vigore della legge prefascista erano i maschi maggiorenni. A me sembrava ovvio che le donne, che avevano avuto un ruolo determinante durante la lotta di liberazione, dovessero votare. Ma a parte De Gasperi e Togliatti, non era questa l'opinione dei partiti. C'erano pressioni di conflitti in famiglia. Lupinacci, che era il rappresentante del Partito Liberale, era per rinviare la decisione sul voto delle donne all'Assemblea Costituente. La moglie di Rosetta era contraria. Decidemmo perciò di fare qualcosa per ottenere che le donne potessero votare il 2 giugno. La nostra attività in concreto era iniziata il 7 ottobre del 1944, già da prima, quando il Comitato d'iniziativa dell'Udi, insieme all'Alleanza Femminile Pro Suffraggio e alla Federazione delle Donne Diplomate e Laureate, che erano due vecchie associazioni antifasciste, inviò un promemoria all'onorevole Bonomi, Presidente del Consiglio, sollecitando l'estensione alle donne dei diritti elettorali attivo e passivo. Il Comitato Pro Vuoto, costituito dall'Udi, dalla FIllis, dall'Alleanza Femminile Pro Suffraggio, dai movimenti femminili, dai Comitati di Liberazione Nazionale, nonché della democrazia del lavoro e della sinistra cristiana e delle donne repubblicane, facciamo una petizione, raccogliamo firme e cominciamo a esercitare pressioni sul governo, sul Comitato di Liberazione Nazionale. Tra l'altro si stavano preparando le liste per le elezioni amministrative, che dovevano avere luogo prima del 2 giugno. Si ricordava che sul diritto del donna al voto amministrativo la Camera dei Deputati si era pronunziata favorevolmente fin dal lontanissimo 1920. Il 17 novembre del 44 le donne dei Cielini tornarono alla carica presentando una mozione al Comitato di Liberazione Nazionale sostenendo che quattro anni di durissima guerra avranno dimostrato la piena e consapevole solidarietà femminile con tutti i militanti del fronte interno e delle bande partigiate e quindi che avevano ovviamente dimostrato la capacità di poter essere attivi anche nell'opera di ricostruzione.